Il Direttore Generale del Personale della Polizia Penitenziaria, mediante provvedimento datato 8 agosto 2023, ha ufficialmente annunciato l'apertura di un interpello nazionale per i trasferimenti a domanda, rivolto esclusivamente agli appartenenti ai ruoli non direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, ispettori, sovrintendenti, agenti assistenti. I membri del personale interessato sono invitati a presentare le loro domande di partecipazione entro la data del 31 ottobre 2023. Oltre alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione sostitutiva di Stato di Famiglia, una dichiarazione che attesti lo Stato di Famiglia del richiedente, la dichiarazione sostitutiva per assistenza a familiari disabili, legge 104-92, un documento che certifichi l'assistenza fornita a familiari con disabilità secondo quanto previsto dalla legge 104-92, la dichiarazione sostitutiva per ottenere punteggi aggiuntivi. Questa dichiarazione è necessaria per richiedere ulteriori punteggi aggiuntivi, basati su fattori come trasferimenti d'ufficio, cause di servizio e periodi di servizio pregressi. Gli interessati hanno la possibilità di indicare fino a tre istituti penitenziari di loro gradimento, utilizzando l'apposito modulo fornito. Nel caso in cui sussistano le condizioni previste, è possibile allegare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive indicate senza ulteriori documentazioni. L'interpello rappresenta un'opportunità significativa per il personale interessato di valutare e richiedere trasferimenti che possano essere in linea con le proprie esigenze e aspirazioni professionali. Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda al provvedimento ufficiale emesso dal Direttore Generale del Personale